segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te io trovo ancora incredibile questa che questa storia possa avvenire nel cuore dell'europa lo trovo incredibile ma quello che volevo chiederle è tutta questa atmosfera non si respirava fuori non c'era già non si avvertiva già una sorta di pericolo a stare lì era proprio secondo me ai tempi del medioevo non c'entrano niente con le leggi europee non hanno niente a che fare con l'unione europea e più volte le guardie glielo dicevo io quando torno in italia me la faccio pagare tutte perché qua non c'è nessuna traccia di un'unione europea di leggi europee anche solo a partire dalle condanne che danno i trattamenti le guardie molto rigide cioè non esiste siamo donne sono persone umane si trattano come animali siamo trovati eravamo trattate legate anch'io sono stata legata come l'aria addirittura con quattro sacchetti con tutti i vestiti tutta la mia roba con queste manette per spostarmi da un carcere all'altro per andare a fare questo processo non è una cosa normale una situazione promiscua perché voi avevate anche degli uomini dei maschi guardie guardie uomini che controllavano le donne non è una cosa normale c'è la notte le donne dormono soprattutto anche quando fa molto caldo tra l'altro nel periodo di agosto siamo stati in una stanza che non c'era aria non si respirava si apriva la porta loro belli al fresco con l'aria condizionata nel morire più volte abbiamo chiesto il l'aria ha fatto intervenire i suoi avvocati loro la sono risolta con questa radiolina entrata una contro la temperatura proprio la porta aperta in cui la temperatura c'era perché la porta era aperta però non sono cose normali soprattutto anche le cimici fa le disinfestazioni ma le cimici sono sempre di più ci sono stati anche episodi oltre alle condizioni spaventose delle carceri ungheresi episodi di vera e propria tortura di crudeltà allora io luita come che ho cambiato stanza che scusa se ti interrompo sono andata con il aree che mi sono spostata perché ho fatto un processo mi hanno cambiato i vestiti perché li ti danno dei vestiti particolari quando una ragazza voleva cambiare stanza poi non so il suo passato cosa abbia combinato quel carcere si è fatto casino so che è uscita e sono venuti due capi e un'educatrice l'hanno portata fuori dalla stanza quando è rientrata zoppicava e piangeva dicendo che l'hanno portata nella doccia l'hanno picchiata e tutte le ragazze ungheresi erano terrorizzati c'è uno no no carmi non parlare non parlare che ti picchiano per qualsiasi cosa vabbè detto io sono italiana non penso che mi picchieranno mai infatti con me erano abbastanza mentre con ilaria so che lei mi ha raccontato che all'inizio sono stati molto duri hanno lasciata in una cella da sola per due mesi senza niente comunque senza forse per il suo reato di cui è stata accusata però non è non sono trattamenti umani o che uno è colpevole non è colpevole non sono cose che possono succedere nel 2024 soprattutto nell'unione europea alessandra poi anche andrea